Sono Mirko, lo chef della pizzeria La Cascina di Creazzo e oggi sono a presentarvi il primo piatto elegante con tagliolini freschi a base di pesto con broccolo fiolaro e scampi. Per il procedimento si parte intanto preparando il pesto di broccolo, si compone di pinoli che gradisce un po' di aglio, del parmigiano e i fioi di broccolo fiolaro. Partiamo tagliando grossolanamente i fioi di broccolo fiolaro, andiamo a portarli nel nostro mixer, ci aggiungiamo i pinoli, il parmigiano, chi gradisce può aggiungere dell'aglio e dell'olio extravergine di oliva. Il nostro pesto è fatto e adesso andiamo a cucinare i tagliolini. Adesso andiamo a porre in padella il nostro pesto. Aggiungiamo gli scampi che avremo tagliato grossolanamente in precedenza, aggiungeremo un filo d'olio per chi gradisce un peperoncino fresco e andremo a scaldare. Andiamo a controllare la cottura dei nostri tagliolini, prenderemo i nostri tagliolini e li spadelleremo con il pesto. E ora andremo ad impiattare. Il piatto, signori, è pronto. Grazie. 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 Grazie.